In realtà per la patata si parla di cultura, agricoltura. La cultura è un'altra cosa? No, no, è la stessa identica cosa. La parola ha una vocale di cambio, ma dipende dall'evoluzione della lingua, ma significa esattamente la stessa cosa. E allora potremmo interrogarci, avendo in mano una patata o una pila, che cos'è la cultura. Un errore che noi facciamo è di pensare che la cultura sia una materia circoscritta. Esiste persino un assessorato alla cultura, l'abbiamo visto. E cioè, come dire, leggere dei buoni libri, venire qui al teatro, frequentare una mostra. Quella sono manifestazioni della cultura, non è la cultura. La cultura è qualcosa di più profondo. Cioè, la cultura è fare bene le cose. E riguarda tutti. Per questo ho iniziato con una patata. Perché fare bene le cose riguarda l'agricoltura, riguarda l'artigianato, riguarda il commercio, riguarda il lavoro intellettuale, riguarda tutti. Fare bene le cose perché uno possa progredire e perché questa progressione ricada su tutti gli altri. Vedete, la cultura non è immediatezza, spontaneità, quella è natura. La cultura è una paziente applicazione delle tecniche e dei saperi. Grazie. Grazie. Grazie.